Insieme alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un simbolo di apertura della giustizia, della libertà, che l'ho vista con i miei occhi. Che ne fanno richiesta possono venire in Italia, soprattutto in Italia. Se si comincia a guardare questa regione come... Per la prevenzione delle violenze. Per ora solo io avevo deciso di considerare la propria competenza ed applicare i principi fondamentali degli stati membri. Grazie a tutti.